ok, ora passiamo invece a una seconda lezione diciamo, quindi secondo video e partiamo, parliamo dell'interfaccia utente in modo un po' più approfondito quindi sugli assets, che sono questi ci creiamo un nuovo folder e qua dentro lo chiamiamo video2 e lo chiamiamo uicomponents perché uicomponents, adesso lo vediamo subito perché dentro uicomponents adesso creeremo una scena quindi faremo create scene questa scene la chiamiamo uigui graphic user interface che sarebbe i pannelli di interfaccia e adesso dentro questa scena che vedete che all'inizio è vuota andremo a costruirci le nostre cose allora, visto che ce ne abbiamo già una più o meno piena, potremmo usare quella ma per semplicità quasi quasi partiamo da zero quindi facciamo proprio tutto questo video soltanto sulle componenti UI e poi le mettiamo insieme eventualmente in un terzo video allora, per fare un UI dobbiamo mettere la UI in realtà che cos'è? è uno HUD, come si diceva in Second Life cioè un qualche cosa che vede solo la persona che gioca ma non gli altri quindi è qualcosa che si sovrappodia tipo visiera nel casco se avete un casco e si vede praticamente da delle informazioni di quello che si vuole si vuole praticamente che sia visibile sempre indipendentemente da come gli siti disposti per farlo occorre creare degli elementi UI e degli elementi UI la cosa più semplice è costruire un testo quindi se voi fate UI testo viene generato un qualche cosa che adesso qui non si vede direttamente che è un testo vedete che c'è questo new text ora questo new text è messo in modo tale da allora in teoria vediamo un po' se riusciamo a a provare facendo il play di questa UI quindi no non si vede vediamo un po' se lo alziamo ecco vedete che praticamente non si vedeva perché semplicemente era troppo basso rispetto a questo bianco che era la visuale quindi per farlo vedere dovete allora quindi andiamo qua lo dovete portare su e qua sotto lo vedete new text ora il testo così come vedete quando abbiamo inserito il testo lui aveva inserito anche un canvas il canvas è praticamente la parte in cui adesso questo canvas qui possiamo disabilitarlo ok e come vedete niente permette semplicemente di avere un oggetto su cui appoggiare la canvas serve praticamente questa roba bianca che vedete qua infatti il canvas è quello e il text è quello ora il testo come vedete è un po' bruttino ma possiamo cambiarlo nel senso che andando sul testo possiamo cambiare il font e quindi mettere ad esempio anziché Arial possiamo mettere altri font in questo caso ci permette di mettere soltanto l'Arial ma sicuramente c'era la possibilità di avere altri font poi magari lo vedremo meglio potete però decidere altre cose tipo se volete in bold quindi vederlo un po' più deciso potete decidere se il testo è tutto allineato a sinistra centrato o allineato a destra rispetto alla vedete che qua in cima cliccando sul testo praticamente ci sono soprattutto qua Rect Tool che è interessante vedete che possiamo fare il testo più o meno grosso quindi qui ci fa vedere che è la metà del testo no? e possiamo quindi farlo più o meno così e qui diventa più interessante vederlo il testo centrato quindi lo vedete centrato qua piuttosto che non no potete centrarlo o metterlo a destra no? tra l'altro se volete vedere anche qua potete praticamente girare e girare questo però tanto comunque lo vedete qua sotto quindi va bene così se per caso il testo è troppo lungo lo potete dirgli di fare un wrap nel senso di andare a capo qui ad esempio sono una casella di testo saluti a tutti e poi facciamo una tanto facciamo lungo tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino vedete che qua a destra si vede qua non si vede semplicemente perché per vederlo dovrei ecco vedete dovrei praticamente abbassarlo questo è importante il colore può essere interessante perché possiamo decidere di farlo in un colore un pochino più evidente nel senso che adesso è nero ma ad esempio possiamo farlo rosso quindi cliccare qua vedete che diventa rosso oppure addirittura possiamo farlo bianco in questo caso bianco si nota meglio no? sullo sfondo quindi possiamo cambiare questo questo particolare elemento in modo tale che si veda poi vabbè ci sono altre cose ma per il momento ci fermiamo qua quindi abbiamo un elemento che è una label un'etichetta e su questa label possiamo metterci delle informazioni altre cose notevoli che possiamo fare nell'interfaccia utente e aggiungerci dei bottoni quindi possiamo fare UI e c'è un bottone allora i bottoni sono qualche cosa di anche loro interessanti nel senso che hanno la capacità di poter essere cliccati vedete che di default compare più o meno al centro possiamo metterne tanti bottoni quindi fare CTRL D CTRL D CTRL D e vi ho messo quattro bottoni ne vedete uno solo perché? perché il primo bottone che è questo andiamo qua e quindi lo trasciniamo magari cerchiamo un po' di ok di vederlo un pochino di frontalmente e allora il primo bottone che è questo no? gli diamo un nome doppio clic e poi facciamo F2 facciamo bottone 1 poi abbiamo il bottone l'altro questo qua che diventerà il bottone 2 tra l'altro ecco il bottone però gli scriviamo dentro proprio bottone 1 e come facciamo andiamo dentro vedete che dentro c'è un testo andando nel testo potete mettere qua il bottone quindi bottone 1 e vedete che è cambiato qua la stessa cosa facciamo qui bottone 2 bottone 2 andiamo poi nel testo ecco per cambiare il testo possiamo anche cliccare in modo diverso ma adesso lo facciamo così lo spostiamo e poi guardate che bello se io clicco una volta viene selezionato il campo sottostante e possiamo qui mettere bottone 2 questo che diventerà il bottone 3 anzi prendiamo questo il bottone 3 lo spostiamo il bottone 2 che era il bottone 3 lo chiamiamo e questo lo chiamiamo bottone 4 4 e poi cambiamo i testi di queste quindi di questo andiamo cambiamo il testo facciamo 3 e questo un altro clic e lo chiamiamo 4 vedete bottone 2 clic 2 2 e questo clic è 1 ok così abbiamo un'interessante interfaccia dove abbiamo per dire questi 4 bottoni tra l'altro questi 4 bottoni possiamo essendo dei testi anche questi possiamo cambiare il font cambiare l'allineamento fare un bel po' di cose ma soprattutto possiamo cambiare il colore se vogliamo farlo di tutto insieme possiamo selezionare 1 2 3 e 4 quindi 4 bottoni e tutti insieme meglio diciamo di farli rossi vedete che questa è una bellissima cosa che permette di lavorare con più con più tasti con più oggetti e ottenere questi effetti ok altra cosa che potremmo fare giusto per chiudere il giro dei testi ui abbiamo visto i testi abbiamo visto i bottoni possiamo anche mettere delle immagini le immagini poi dovranno essere caricate ma per le immagini vediamo poi un video successivo dove vi faccio vedere come mettere le immagini e eventualmente possiamo mettere anche delle altre cose a parte gli altri tipi di tasti la cosa interessante è il pannello il pannello è un qualche cosa che diventa proprio dove di solito vengono alloggiati tutti i testi che facciamo quindi di solito non si mette in questo modo ma sotto il canvas si crea un UI che è un pannello ok il pannello come vedete è una roba semitrasparente perché ha una sua identità e vogliamo mettere praticamente tutto ciò che abbiamo fatto prima quindi i quattro bottoni e il testo sotto il pannello ok e questo perché è importante perché a questo punto il pannello questo che rappresenta la bottoniera chiamiamola per esempio bottoniera è rappresentata da una label questa e dai quattro bottoni ma qual è il vantaggio di averlo messo tutti insieme è che posso abilitare o disabilitare tutto il pannello quindi se io clicco qua vedete che sparisce la bottoniera se io la clicco qua riappare e così via quindi questo è un modo per gestire i pannelli sottostanti quindi per questo video direi che è già parecchio nel prossimo vediamo anche qualche altro elemento per fare l'interfaccia utente ma prima di abbandonare facciamo soltanto un play facendo il play vedete che funziona sotto in realtà non si vede bene perché rimane uguale però quello che succede è che viene visto e praticamente si può interagire con i tastini nella parte game nella parte scene no non si può fare niente se non andare a selezionarli ma se volete proprio fare un debug di come verrebbe dovete sempre fare riferimento a questo quindi nel prossimo video vediamo altri elementi di interfaccia utente grazie a tutti